La sera del 6 gennaio del 2007 una coppia di giovani fidanzati organizza una cena e dopo sarebbero andati ad una festa con dei loro amici ma purtroppo preparatevi perché quella sarà una serata terrificante I nomi di questi due ragazzi sono Shannon Christian e Christopher Newsom Ma prima di iniziare se vi piacciono le storie true crime vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina Detto questo io sono Giada e oggi vi racconto la storia di Shannon e Christopher Per il caso di oggi ci troviamo a Knoxville in Tennessee e qui vive il 23enne Christopher Newsom Chris è un ottimo giocatore di baseball ed è un ragazzo giovanissimo ed incredibilmente popolare che lavora come carpintiere Shannon invece ha 21 anni ed è una giocatrice di golf ed una studentessa di sociologia all'università del Tennessee La sera del gennaio del 2007 Shannon va a prepararsi a casa di una sua amica Chris invece è in ritardo e Shannon dice che non sarebbe andata alla festa senza di lui e quindi decide di aspettare Chris di modo che i due alla fine potessero andarci insieme Intorno alle 8 di sera l'amica di Shannon si dirige alla festa e la ragazza decide di aspettare Chris ma per qualche ragione i due non andranno mai a quella festa Gli amici della coppia erano estremamente preoccupati proprio perché i due non erano mai andati a quella festa così iniziano a scrivere ad entrambi e soprattutto a chiamarli ma loro non gli avevano risposto Quando capiscono che ormai era passato troppo tempo alle 11 di sera due degli amici di Chris vanno all'appartamento dove Shannon si stava preparando e trovano il camion di Chris nel parcheggio ma non erano riusciti a trovare il sub di Shannon Quando la madre di Shannon si sveglierà la mattina del 7 gennaio è estremamente preoccupata per sua figlia perché in verità non era mai tornata a casa e non aveva nemmeno risposto alle chiamate di sua madre Ma poco dopo la madre di Shannon riceve una chiamata che aveva fatto crescere la sua preoccupazione L'amica di Shannon la chiama e le dice che sua figlia non era mai andata alla festa e che il suo SUV non era parcheggiato da nessuna parte Passa poi qualche minuto quando suona di nuovo il telefono e a questo punto è il manager del lavoro di Shannon che chiama a casa per sapere se fosse tutto ok proprio perché quel giorno la ragazza non si era presentata al lavoro ed è proprio in questo esatto momento che Dina, la mamma di Shannon capisce che qualcosa di orribile fosse accaduto quella sera sarà quell'istinto materno non aveva comunque una buona sensazione e in effetti amici miei dopo capiremo che le sue sensazioni non stavano sbagliando Per questo decide di chiamare il 911 proprio per denunciare la sparizione di sua figlia e del suo fidanzato Chris Ma sfortunatamente le autorità non potevano fare nulla perché ormai come tutti avevamo imparato a memoria devono attendere le classiche 24 ore dalla scomparsa per iniziare le loro ricerche proprio perché ormai entrambi i ragazzi erano adulti e maggiorenni Tutta la famiglia però con estrema ansia stava aspettando una chiamata da Shannon ma questa non arriverà mai e visto che avevano letteralmente le mani legate perché sapevano che la polizia prima delle 24 ore non poteva fare nulla decidono a quel punto di fare loro qualcosa da soli Chiedono così aiuto alla compagnia telefonica di Shannon che gli informa che il telefono era stato rintracciato a Cherry Street Ora amici, Cherry Street non è un bel posto è un quartiere dove è presente molto crimine un quartiere descritto semplicemente come un posto dove non devi andare se vuoi vivere Ma la famiglia e gli amici non perdono tempo e vanno immediatamente a Cherry Street e lì avevano pensato un po' trovato il SUV abbandonato di Shannon un Toyota 4Runner per la precisione e notano qualcosa di veramente strano e soprattutto preoccupante Piccola premessa è vero che Shannon non si prendesse così tanta cura del suo SUV ma la famiglia e gli amici che la conoscono meglio di chiunque altro notano che i tappeti erano ricoperti di fango e non solo i sedili erano stati tirati indietro anzi fin troppo perché da quella posizione Shannon non sarebbe mai arrivati ai pedali Shannon inoltre nel suo SUV aveva sempre delle foto insieme a Chris e pensate che anche queste erano spariti insieme al suo iPad e il suo piccolo orsacchiotto che teneva sul cruscotto del suo SUV ma tra tutte le cose sparite trovano un pacchetto di sigarette e anche qui è un indizio molto strano e preoccupante perché nessuno della coppia né Chris e né Shannon fumavano la polizia a quel punto passate le 24 ore riesce all'interno del SUV a rinvenire delle impronte digitali che guardate un po' li avevano portati ad un indirizzo 2316 Chipman Street un indirizzo di sole due case dopo rispetto a dove era stato ritrovato il SUV di Shannon queste impronte preparatevi perché una volta inserite nel database dagli agenti scoprono che appartengono ad un uomo di nome Lameracus Davidson un noto rapinatore e dunque questo strano ed oscuro caso preparatevi perché stava per essere portato alla luce lo stesso giorno quando gli agenti scoprono quella corrispondenza delle impronte digitali ritrovate all'interno del SUV di Shannon scoprono anche un'altra cosa che spezzerà il cuore alle rispettive famiglie il corpo di Chris viene ritrovato vicino delle rotaie del treno da un impiegato della stazione il 7 gennaio un piumino era stato avvolto intorno al suo corpo ed una felpa invece intorno alla sua testa era stato imbavagliato con i suoi stessi calzini le sue caviglie erano state legate con la sua cintura e le sue mani erano state legate dietro la sua schiena i suoi piedi erano nudi e fangosi e questo dimostrava come qualcuno lo avesse fatto camminare in un posto fangoso dove poi è stato ucciso il suo corpo era in delle terribili condizioni presentava ferite multiple di arma da fuoco che ricordava proprio una morte in stile esecuzione e il suo corpo era stato completamente ricoperto di benzina e poi dato alle fiamme sono stati inoltre ritrovati dei semi particolari all'interno del corpo di Chris ma purtroppo l'analisi del DNA è stata completamente inutile proprio a causa del fatto che in primo luogo lo avevano ricoperto di benzina e poi avevano acceso le fiamme a bedroom untouched by time memories in the shape of trophies and pictures laundry still where it was placed a decade ago a bed empty since Chris Newsom last slept in it his room reveals his likes, his loves, his dreams never fulfilled ma per capire meglio questa tragica storia perché lo so che in questo momento avrete mille domande per la testa dobbiamo tornare un attimo indietro nel tempo quando l'amica di Shannon ha lasciato il complesso di appartamenti per recarsi a quella famosa festa Chris e Shannon avranno un po' di tempo da passare soli prima di dirigersi a quella festa rimarranno infatti a parlare fuori il SUV dalla parte del guidatore nel parcheggio ma la giovane coppia in quel momento è completamente ignara che qualcuno li stava osservando e quel qualcuno preparatevi perché era una gang di rapinatori in un battito di ciglia Chris e Shannon si sono ritrovati una pistola puntata alla loro testa e quella gang li costringe a salire sul SUV di Shannon all'improvviso una serie di fari viene avvistata nel parcheggio degli appartamenti e proprio per questo motivo la gang va completamente nel panico perché avevano paura di essere scoperti e con la pistola ancora puntata alle loro teste spingono la giovane coppia dentro al SUV e se ne vanno Chris e Shannon a quel punto vengono portati ad una casa a Chippman Street appena vicino ad una discarica dove poi come tutti sappiamo lì nelle vicinanze viene ritrovato il SUV di Shannon e le cinque persone incriminate in questa orribile storia sono George Giovanni Thomas, Daniel Cobbins, Lameracus Davidson, Vanessa Lynn Coleman ed Eric Boyd Lameracus Davidson era appena uscito di prigione quando commetterà quel terribile crimine ed era in libertà vigilata per furto d'auto e tutte le altre persone che vi ho appena menzionato sono a casa sua quel giorno Questi cinque purtroppo sono conosciuti per essere delle persone veramente instabili e note per causare sempre dei problemi Lameracus in quel periodo era completamente al verde e frustrato per i suoi problemi economici e per questo invece che trovarsi un lavoro decide che, beh, con lui quella giornata avrebbe dovuto rubare un'auto Per questo che tutti e cinque insieme vanno a caccia quella sera ed è così purtroppo che sul loro cammino incontrano Chris e Shannon Chris verrà ucciso per prima e subirà violenza fisica e sarà brutalmente picchiato e pensate che per tutto quel tempo Shannon sarà costretta a vedere tutta la terribile scena Dopo aver subito letteralmente i peggiori abusi portano Chris sulle rotaie del treno Ed è proprio qui che gli toglieranno la vita Davidson incoraggia Thomas ad uccidere Chris e lui gli spara dritto al collo e poi alle spalle Chris pensate che dopo aver subito tutte quelle indicibili torture era ancora vivo e rimarrà infatti paralizzato alle gambe e questi mostri proprio con l'obiettivo di prolungargli la sofferenza lo lasciano un attimo a terra mentre lui prova a dimenarsi ma non ci riesce e soprattutto urla dal dolore Davidson dopo essersi goduto quel macabro spettacolo finisce il povero Chris con un colpo alla testa in stile esecuzione ma purtroppo la gang non aveva ancora finito Per provare a cancellare le prove evidenti di questo orribile reato e soprattutto il loro DNA dal corpo di Chris perché già sapevano che la polizia visto i precedenti reati li aveva già schedati avevano avvolto il suo corpo nel piumino e poi riempito di benzina e il corpo del povero Chris prende fuoco diventando una torcia umana mentre Damison e Thomas sono sul binario con Chris Shannon stava per lasciare l'appartamento con Vanessa Coleman e mentre i due mostri erano tornati dalla stazione decidono di avventarsi su di lei avevano legato la povera Shannon e poi anche lei era stata barbaramente picchiata e anche lei come il suo fidanzato Chris purtroppo subirà violenza fisica e la gang pensate che in tutto questo aveva mutilato sia il corpo di Chris che quello di Shannon mentre erano ancora vivi quindi provate a immaginare solo minimamente il dolore che possono aver passato questi due ragazzi quei mostri poi dicono alla povera Shannon che se li avesse secondati loro l'avrebbero lasciato andare ma queste erano solo bugie erano solo ed esclusivamente delle bugie Vanessa tra l'altro amici è l'unica donna a far parte di questo malefico piano ed è pienamente consapevole di cosa sarebbe accaduto e di cosa stava accadendo a Shannon durante infatti quelle 24 ore dove Shannon aveva subito tutte quelle atroci torture Vanessa non farà nulla per cercare di aiutare la povera Shannon a parte il fatto di portarle solo occasionalmente un po' d'acqua per bere e tra l'altro non solo perché Vanessa aveva avuto tantissime occasioni per aiutare Shannon visto che le due erano rimaste da sole in casa per molto tempo quindi se avesse avuto un minimo di coscienza poteva almeno lei lasciarla andare ma non l'ha fatto Shannon verrà poi strangolata e picchiata finché non perderà conoscenza pensando che a quel punto non fosse ancora viva provano a metterla in posizione fetale Davidson addirittura nel tentativo di distruggere il suo DNA l'aveva infilato un tappo di candeggina in gola e dentro il suo corpo Shannon poi era stata avvolta in cinque sacchi della spazzatura e in una busta della spazzatura bianca che le era stata messa sulla testa e poi come un rifiuto verrà gettata nel bidone della spazzatura Shannon però non era morta ma perderà purtroppo la vita soffocando lentamente e i suoi occhi resteranno addirittura aperti vista tutta quella sofferenza che aveva vissuto pensate alla scena poi terrificante che si sono ritrovati gli agenti una volta che poi ritroveranno il suo corpo tornando poi a dove eravamo rimasti poco fa ovvero quando la famiglia di Shannon trova il suo SUV una volta finalmente intervenuta la polizia rinverranno come sappiamo del DNA in un sacchetto appunto dentro la sua auto questo DNA aveva portato la polizia al 2316 di Chipman Street e quando arriveranno troveranno l'appartamento libero durante quel sopralluogo gli agenti rinvengono il corpo di Shannon dentro la spazzatura nella cucina ma non solo troveranno anche cinque sacchetti con cui Davidson aveva avvolto il corpo della povera Shannon e lì erano state ritrovate tutte le sue impronte digitali insieme anche alle tracce del suo liquido seminale tutti gli oggetti personali che mancavano all'interno del SUV della povera Shannon erano stati ritrovati in quella casa degli orrori tracce poi anche del liquido seminale di Davidson verranno ritrovati sui jeans e sul maglioncino di Shannon la polizia inoltre rinverrà dei bossoli di proiettile che corrispondevano con i proiettili che avevano ucciso Chris l'11 gennaio poi i cinque criminali sono stati trovati ed arrestati con l'accusa di aver ucciso Chris e Shannon Eric Boyd e Vanessa sono stati accusati di essere dei complici dei reati commessi anche se materialmente i due non hanno fatto del male fisico alla coppia ma comunque erano consapevoli di quello che stava facendo la gang a Chris e Shannon e loro li hanno secondati e coperti Coleman invece è stato arrestato con l'accusa di omicidio dopo il loro arresto è stato trovato poi tra l'altro un diario con su scritte queste parole la scorsa notte è stata unica nel suo genere siamo stati con i rapinatori fighi da morire aveva nevicato un po' ma abbiamo già parlato della nostra avventura ho avuto un'avventura infernale da quando ho partecipato al built-in sono stati dei giorni folli ma sapete amo queste avventure così divertenti la lezione che ho imparato è che è stato un anno lungo e interessante e amici la grafia di questa pagina di diario corrispondeva alla perfezione con quella di Vanessa Coleman Eric Boy invece è stato accusato di concorso di rapina sfociata poi in omicidio l'unico dei sospettati la cui pena non è stata mai convertita in omicidio è stato condannato ad una pena massima di soli 18 anni in una prigione federale Alvis Cobbin è stato accusato di omicidio e condannato al carcere a vita senza condizionale l'Americus Davidson è stato accusato di omicidio e con l'unanimità della giuria è stato condannato alla pena capitale il giudice dirà infatti durante il processo che questo caso era un caso assolutamente crudele e disumano e penso che sia il più crudele e disumano che vi abbia mai raccontato e infine aggiunge che una condotta di questo tipo è veramente inspiegabile e che non esisterebbe nessuna sentenza al mondo che servirebbe realmente a punire tutto il male causato a Chris e Shannon l'Americus infatti ha ricevuto la sua condanna a morte nel 2016 George Thomas invece è stato accusato di innumerevoli reati ed è stato condannato al carcere a vita senza possibilità di richiedere la condizionale Vanessa Coleman invece è stata accusata di omicidio di primo grado ma alla fine è stata condannata per reati minori a soli 53 anni di carcere la casa degli orrori poi tra l'altro è stata demolita e lì è stato costruito un tributo proprio in onore ai due giovani a Chris e Shannon e so che tutti ci stiamo chiedendo ma qual è il movente di questo orribile crimine ecco purtroppo non è mai stato chiarito né durante il processo e nemmeno dalle autorità e quindi le persone come sempre accade si sono fatti la loro opinione e alcuni credono che la coppia sia stata uccisa semplicemente perché erano bianchi altri credono ancora che il fine fosse esclusivamente quello di rapinarli ma poi la cosa per un motivo o un altro è degenerata e proprio questa sensazione di potere che li aveva letteralmente persuasi li avrebbe portati a commettere questo atroce crimine grazie a tutti grazie per aver visto questo video e mi raccomando non siate timidi fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento grazie e state al sicuro è proprio un mondo strano là fuori grazie a tutti grazie a tutti